Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere volete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Mercoledì 22 marzo 1978 a mezzanotte e 36 in centrale arriva una chiamata d'emergenza. Una sparatoria, dicono dall'altro capo del telefono, è avvenuta nella suddivisione di Windermere Hight, a 5 miglia al sud di Hyde Point, nella Carolina del Nord. Randolph è una contea tranquilla e le sparatorie sono cosa rara, soprattutto le poche che avvengono non coinvolgono mai la classe media che vive nella zona rurale. Quando due tecnici del pronto soccorso arrivano sul posto, una donna bionda, in jeans, le attende e sembra tranquilla mentre le informa che il marito si è sparato in testa. Credo sia morto, aggiunge. La donna si chiama Barbara Terry Ford e l'uomo a terra è Larry Ford. I due si erano incontrati ai tempi del college. Entrambi avevano frequentato la Palaccia State Teachers di Boone, collocato in una cittadina immersa tra le montagne. Larry era il maggiore di 5 figli e si era sempre contraddistinto per essere un bambino calmo, gentile e sportivo. Infatti dalla tenera età si distinse in diversi sport, entrò addirittura nei Boy Scout e frequentava spesso il gruppo della chiesa. Era pure particolarmente studioso e aveva da subito lavorato su un'ottima carriera accademica. Fu presidente del Beta Club della sua scuola, tesoriere dell'Inner Club Council, segretario dei Junior Civitans e votato come il più affidabile della classe. Insegnare era sempre stato il sogno di Larry, credeva nei suoi progetti e lavorò duro per potersi permettere l'università, dove fu accettato rapidamente. Fece addirittura domanda d'ammissione in due scuole temendo un rifiuto, eppure ricevette un ottimo risponso da entrambe le sue candidature. Cesse comunque di far parte degli appalachi. Il primo anno di college fu per Larry subito proficuo. I voti erano alti e gli insegnanti lo adoravano. Lavorava sodo dopo tutto, trascurando addirittura la vita sociale. Tutto andava per il meglio. Poi conobbe Barbara Terry. Barbara Terry era la prima di tre figli. I genitori erano una coppia laboriosa e molto devota. La famiglia era gestita dalla madre, personalità dominante ed ambiziosa, mentre il padre restava sullo sfondo con le sue pretese sulla vita dei figli. Barbara, per lui, doveva essere una perfetta donna di casa. La ragazza si mostrò da subito studiosa, conseguì il diploma al liceo senza difficoltà e riuscì addirittura a laurearsi diventando una maestra di scuola elementare. La pecca stava nella sua testolina. Barbara, infatti, era terribilmente emotivamente immatura. Eppure usava sempre un linguaggio pulito, senza troppe parolacce. Non metteva mai in imbarazzo i suoi genitori. Fu accettata l'Università della Carolina del Nord, la prima scelta di Larry, ma scelse l'Università degli Appalachi, poiché quella scuola le offriva una modesta borsa di studio. Nell'inverno tra il 1967 e il 1968, Barbara e Larry iniziarono a frequentarsi e subito dopo due mesi, Barbara scoprì da aspettare il loro primo figlio. Larry voleva fare la cosa giusta e così i due si sposarono alla First Presbyterian Church di Bourne, il 21 maggio 1968. I Ford e i Terry vennero a conoscenza del matrimonio dopo che era già avvenuto e solo un piccolo gruppo di amici partecipò alla cerimonia informale. Il primo figlio della coppia, Brian, nacque nel 1968 e nel 1974 la famiglia si allargò ulteriormente con la nascita di Jason. Barbara abbandonò la scuola per concentrarsi sui figli mentre Larry fece per lunghi anni spola tra lavoro ed università. Era descritto da tutti come un padre amorevole ed affidabile. Larry quindi viene ritrovato morto nella camera da letto principale nella casa di Windeme Hades dai paramedici la mattina del 22 marzo 1978. Addosso un pigiamarighe rosse e nere e sta nel letto sdraiato supino. A prima vista si sarebbe potuto pensare che l'uomo stesse solo dormendo. Infatti aveva le coperte tirate sul petto e gli occhi erano chiusi. Sostando le coperte però i paramedici notarono del sangue proprio sulle lenzuola e sulla maglia del suo pigiama. Provarono a cercare il polso ma fu tutto inutile. La pelle di Larry è ormai violacea dove il sangue si era depositato ed il suo viso era totalmente bianco. Ad attirare l'attenzione degli inquirenti furono due dettagli. Un piccolo foro di proiettile posizionato a pochi centimetri sopra il pettorale destro dell'uomo come una clip carica per una pistola semi-automatica che sta appoggiata accanto al suo fianco sinistro. L'arma sembrava caduta infatti era appoggiata sulla moquette beige della camera proprio accanto al letto come se fosse scivolata dalle mani di Larry con la canna rivolta proprio verso di lui. I tecnici sanitari constatarono immediatamente che per il povero Larry Ford non c'è niente da fare quindi chiamarono la polizia e un'ambulanza per prelevare il cadavere dell'uomo. Uno dei paramedici riconobbe che la pistola era una calibro 25 lo stesso tipo di pistola che possedeva sua moglie. Avendo familiarità con l'arma il paramedico ipotizzò subito che non si trattasse di suicidio infatti quella pistola non avrebbe mai potuto sparare senza il caricatore crede quindi che qualcuno avesse sparato a Larry quel colpo nel petto. Barbara disse di non sapere nulla sostenendo che lei e Larry avevano guardato la televisione prima di andarsene a letto. Il marito aveva subito un infortunio all'inguine durante la lezione di taekwondo il giorno prima e quindi stava male. Proprio il malessere l'aveva portato a girarsi e rigirarsi nel letto totalmente incapace di prendere sonno e per questo motivo Barbara aveva deciso di dormire sul divano. Non le andava di essere disturbata. Era acceso quindi il televisore addormentandosi ma per pochissimo tempo. Lo sparo la svegliò ed inizialmente pensò semplicemente che il marito avesse fatto cadere qualcosa. Andata a controllare però si ritrovò davanti quella scena raccapricciante. La donna decise di chiamare per prima cosa sua madre sostenendo che non pensò immediatamente alla polizia presa dal panico. Sostiene Barbara che la pistola era stata acquistata giusto il giorno prima della sparatoria. Proprio per questo gli inquirenti propongono la versione che l'uomo si sia alzato per analizzare il nuovo acquisto vista l'insonnia e che per errore si sia colpito da solo. Magari pure lui era convinto che la pistola senza il caricatore inserito non avrebbe sparato. Il proiettile però era in canna ed il grilletto lo fece scattare. Incidente. Così viene archiviata la vicenda e Larry viene tumulato senza nemmeno procedere ad un'autopsia. Vengono però analizzate le mani alla ricerca di polvere da sparo che con sorpresa però non viene ritrovata. Il chimico forense della SBA dichiarò quindi che Larry non avrebbe potuto sparare ed uscirne con le mani lì indepinte. Non era stato un incidente. Un mese dopo un giudice mise un ordine di riesumazione del cadavere ed il capo medico legale dello Stato trovò il proiettile che uccise Larry ben conficcato nella sua spina dorsale. Ma com'era possibile? Il bossolo aveva perfurato il polmone destro e l'arteria polmonare causando così una massicce emorragia interna che aveva portato il povero uomo ad una morte per dissanguamento. La ferita sembrava indicare che Larry fosse stato colpito a distanza ravvicinata addirittura con la canna della pistola posata sul petto. Sebbene il caso fu classificato come omicidio la gente si mostrò scettica e tutto si fermò. Di sensi politici animavano il dipartimento dello sceriffo. Mentre la vita di Larry si era fermata quella di Barbara proseguiva. La donna vendette la casa e si trasferì insieme ai suoi figli nella residenza dei suoi genitori. Presto iniziò però a cercare una casa tutta sua visto che non voleva pesare sempre sull'appoggio di mamma e papà. Tutto cambiò infatti quando incontrò Russ Strager. Russ è originario di Durham proprio come Barbara. Inoltre era nato nel suo stesso ospedale solo cinque mesi prima. È il primo genito di due fratelli. La sua infanzia è stata tranquilla. È sempre stato descritto come un bambino ben educato. Tuttavia amava di più il divertimento dello studio. Era molto vivace, voleva sempre giocare e amava particolarmente stare all'aria aperta. Proprio questa esuberanza lo portò a ripetere un anno alle elementari. Nonostante non fosse molto portato per lo studio Russ, amava lo sport ed era molto dotato nello sci e nel nuoto. Eccelleva particolarmente negli sport di squadra come ad esempio il baseball. Infatti giocava nelle posizioni di ricevitore esterno durante gli anni del liceo. A quel punto aveva deciso che voleva diventare un allenatore di scuola superiore. Proprio come Larry Ford, Russ era un adolescente solido e affidabile che non dava preoccupazioni ai suoi genitori. Dotato di un sorriso caldo e di una personalità magnetica, riuscì a fare amicizia molto facilmente e quelle amicizie si rivelarono solide e durature. Era anche un membro della chiesa di famiglia. Dopo essersi diplomato alla Durham High School nel 1966 e aver frequentato il college, tornò a scuola per degli importanti eventi sportivi. In una di queste occasioni incontrò Jolene Allen. I due si frequentarono per sei anni prima di sposarsi nel 1974. Un anno prima aveva presentato domanda e vinto la posizione di insegnante di educazione fisica e assistente allenatore nel sistema scolastico di Durham City. Russ si dimostrò un ottimo allenatore per i suoi studenti. Dava sempre il massimo e cercava di incoraggiarli. Sempre. Il suo buon umore combinato con il suo temperamento equilibrato gli valse il rispetto e l'amicizia dei suoi studenti. Poiché molti dei suoi studenti provenivano da famiglie povere, usava spesso i propri soldi per acquistare attrezzature sportive che non portevano per mettersi, nonché generi alimentari. Portava a casa le loro divise per lavarle, rammendarle se necessario e stirarle. Inoltre fu veloce nell'organizzare lotterie e fare svendite per raccogliere fondi per le squadre sportive. Tre anni dopo il loro matrimonio, tuttavia, Russ e Jolene si allontanarono. I due divorziarono infatti nel 1978. La separazione e il successivo divorzio avvenne in modo concorde. Inoltre i due mantenero un atteggiamento più amichevole possibile. La ormai ex coppia decise pure di vendere la loro casa coniugale in modo da potersi dividere il ricavato. Ed è proprio in quel frangente che Russ conosce Barbara. La donna infatti era stata attirata dal cartello in vendita. La donna alla fine decise di comprare una casa diversa ma continuò a pensare alla casa di Larry. Inoltre la donna dimostrò da subito il desiderio di volersi ricostruire una vita ma dopo la morte del marito non aveva più frequentato alcun uomo. Dopotutto aveva due figli e cercava una relazione duratura. Russ invece era alla ricerca di una compagna per costruirsi una famiglia tutta sua lasciandosi alle spalle una piccola attresca avuta con una ragazzina diplomata nel liceo dove lavorava. Per carità eh, avrebbe voluto sposarla quella ragazza ma età diverse indicano anche obiettivi diversi e la giovane aveva in testa il college e i divertimenti non un matrimonio di certo. Ci rimase male Russ ma si fece consolare dalla conoscenza con Barbara cominciarono a frequentarsi e si fidanzarono dopo un mese d'uscite. Attesero che il divorzio di Russ diventasse definitivo e si sposarono il 17 marzo del 1979 esattamente cinque giorni prima dell'anniversario della morte di Larry. Il sogno di Russ era quello di allargare la famiglia ma Barbara non fu onesta con lui omettendo il dettaglio di essersi sottoposta alla chiusura delle tube. Poco importava però, i due per i nove anni successivi vissero sereni, tranquilli e felicemente sposati invidiati da tutti perché sembravano essere davvero la coppia perfetta. Il primo febbraio 1988 qualcuno effettuò una chiamata al 911 era un bambino dalla voce così acuta da confondere l'operatore che pensò si trattasse di una ragazza. Si tratta di Jason Stranger chiese un'ambulanza a casa sua su Fox Drive Esplosa la pistola di papà, mamma ha detto di chiamare aiuto, disse. Come era caduto fuori High Points quasi un decennio prima i primi soccorritori arrivarono in un tranquillo quartiere residenziale dove udire degli spari non era affatto alla norma. Come Larry Ford, Russ Stranger si trovava nella camera da letto principale sotto le coperte. Giaceva su un fianco con una massiccia macchia di sangue che si estendeva sotto la sua testa. Sul cuscino su cui riposava. Russ lottava per respirare emetteva un suono simile a russare e il suo battito cardiaco accelerava sempre di più. Il primo tecnico sanitario di emergenza sulla scena lo girò leggermente in modo che il suo naso e la sua bocca non fossero sepolti nel cuscino liberando un po' le sue vie aeree. Sanguinava dalla bocca e dal naso le sue pupille erano rivolte all'indietro ma la sua pelle risultava ancora calda. I suoi segni vitali rivelarono anche la ferita alla testa. Stava sanguinando internamente riempiendo il cranio di sangue e esercitando una pressione sul cervello che lo avrebbe ucciso se l'emorragia non fosse stata interrotta presto. Durante tutto questo Barbara rimase in silenzio a guardare. si mosse solo per cambiarsi mettendosi un jeans e una maglietta nel bagno adiacente ribadendo quanto avesse paura delle pistole. Quando le venne chiesto cosa fosse successo Barbara spiegò che stava sfilando la pistola da sotto il cuscino di suo marito quando partì un colpo. Ma perché Russ dormiva con una pistola sotto il cuscino? Russ secondo Barbara aveva sentito dei rumori fuori casa nelle notti precedenti e preoccupato per i ladri la sera prima aveva messo la pistola sotto il cuscino. Sentendo Jason alzarsi quella mattina per andare in bagno Barbara si era preoccupata che Russ avesse potuto svegliarsi e pensare che qualcuno fosse in casa con il fine di rubargli la pistola. La pistola che ha sparato a Russ venne ritrovata tra i due cuscini del letto la canna puntata verso la testa di Russ con un proiettile esaurito a pochi centimetri di distanza. Era una beretta semiautomatica calibro 25 ed è ancora armata. Barbara indicò i paramedici di aver già spostato la pistola. Un'ambulanza arrivò e portò Russ aggrappato alla vita al Duke University Medical Center lasciando Fox Drive alle 6.43. I medici scoprirono che il proiettile era passato attraverso il cervello di Russ conficcandosi nella parte anteriore del suo cranio ciò voleva dire morte cerebrale. Meno di sei ore dopo infatti il povero Russ venne a mancare. La comunità intera si strinse attorno alla famiglia dell'uomo per piangerlo. Il caso venne affidato al sergente Rick Bachnan del dipartimento dello scerifo della Contea di Durham. Decise di cominciare le indagini parlando con Barbara. Si ritrovò sorpreso del fatto che non solo la donna si mostrò ben disposta a parlargli ma anche con uno stato d'animo non eccessivamente sconvolto. Bachnan si sorprese ancora di più vedendola accettare di tornare nella casa coniugale per rievocare eventi e dinamiche dell'incidente. La storia della donna sembrava plausibile eppure qualcosa non lo convinceva. In ogni caso, quell'incidente rimaneva una morte accidentale. La prima moglie di Ras, però, ancora molto affezionata a lui fece il possibile per dare una svolta alle indagini. Apprendendo della morte dell'ex marito insistette per vedere il sergente di persona. Durante il loro incontro spiegò che durante tutta la loro relazione non aveva mai visto Ras dormire con una pistola sotto il cuscino ed essendo stato lui nelle riserve dell'esercito e nella guardia nazionale conosceva le sparatorie accidentali e si guardava bene dal dormire con un'arma vicino. Confermò inoltre le testimonianze dei membri della famiglia di Ras i quali avevano detto al sergente che lui era noto per avere il sonno molto pesante aveva dormito non solo durante un combattimento aereo ma anche mentre un incendio si stava diffondendo in casa con l'allarme antincendio attivo. La più grande notizia che Jolin rivelò tuttavia fu che lei e Ras ebbero due conversazioni riguardo la sua relazione con Barbara. La prima avvenne nel luglio del 1983 Ras confidò all'ex moglie che Barbara lo aveva messo in gravi difficoltà finanziarie gli aveva prosciugato i conti in banca aveva mentito sull'avere un contratto per pubblicare un libro inoltre l'aveva anche sorpresa a tradirlo. Ras aveva pensato di lasciare Barbara ma amava troppo Brian e Jason per andarsene il suo amore per i due figliastri che aveva adottato lo convinceva a restare. La loro seconda conversazione invece avvenne nel novembre del 1987 solo pochi mesi prima dell'uccisione. L'uomo si era vantato di Brian e Jason e di quanto fossero bravi prima di andarsene però disse a Jolin che se gli fosse successo qualcosa di brutto lei avrebbe dovuto indagare. Ras aveva ammesso di essere preoccupato le aveva infatti raccontato che tre anni prima il primo marito di Barbara era morto con lei in casa e si chiedeva se sarebbe successa la stessa cosa anche a lui. Il sergente si mostrò scioccato non era al corrente del fatto che Barbara avesse avuto un primo marito né tantomeno che si fosse trovata in una situazione tanto losca già una prima volta. Dopo aver parlato con Jolin e aver sentito la sua incredulità e rabbia per il fatto che non fosse stata eseguita l'autopsia su Ras e che sulla pistola non fossero state prelevate le impronte digitali il sergente capì che pista avrebbe dovuto battere e come avrebbe dovuto agire. Fece eseguire prima di tutto un'autopsia sul corpo dell'uomo i cui risultati indicarono che la traiettoria del proiettile proveniva dall'alto non corrispondeva quindi alla versione di Barbara. Il proiettile non era esploso mentre stava facendo scivolare la pistola da sotto il cuscino di Ras. Inoltre il sergente chiese la consegna dei file sulla morte di Larry Ford il primo marito di Barbara. Contemporaneamente iniziò a scavare nella vita di Barbara e nelle sue relazioni amorose. Scoprì che la donna non solo aveva tradito più volte Ras ma aveva fatto lo stesso anche con Larry. I problemi finanziari di cui aveva parlato Jolin erano solo la punta dell'iceberg. Barbara non solo aveva messo in difficoltà Ras prosciugandogli il conto in banca ma aveva falsificato la sua firma per varie richieste di prestito di cui l'uomo non era il corrente. La donna aveva scritto una moltitudine di assegni alla sua banca nel tentativo di coprire questi debiti. Aveva ottenuto il risultato di essere sospettata di aver rubato del denaro dal cassetto dei contanti quando aveva lavorato per un breve periodo come cassiera. Inoltre aveva usato la carta intestata di una lettera di rifiuto di Doubleday casa editrice statunitense considerata una delle più grandi al mondo per farsi ficcare una lettera di accettazione per il suo libro che usava non solo per vantarsi con amici e vicini ma anche come garanzia per un altro prestito di cui Ras non sapeva nulla. Barbara per di più aveva ricevuto un bel compenso assicurativo sulla scena della morte di Larry. Lunedì 18 aprile 1988 un gran giurì incriminò Barbara per un uccidio di primo grado per la morte di Ras Strager. Venne arrestata allo stesso giorno. I pubblici ministeri sebbene fossero certi di avere una solida causa contro Barbara non riuscirono a trovare un buon motivo per cui la donna avrebbe dovuto sparare a Ras in quel particolare giorno ma ancora una volta Jolene riuscì a risolvere anche questo enigma. Sfogliando i registri con la madre di Ras trovarono un assegno in uno degli estratti conto dell'uomo che risultava numericamente fuori uso. Dopo un esame più attento scoprirono che la firma sull'assegnante stato a Barbara era molto simile alla firma di Ras ma non era la sua. L'assegno infatti era stato depositato sul conto di Barbara e utilizzato per effettuare il pagamento di un prestito insoluto. Il giorno in cui l'uomo venne ucciso era il giorno in cui avrebbe letto il suo estratto conto. Sembrava che quel giorno Barbara avesse sparato a Ras dunque per impedirgli di trovare l'assegno falsificato. Il processo di Barbara iniziò lunedì 1 maggio 1989 lo Stato prese la sua miriade di prove risalenti ad anni prima per spiegare perché Barbara avesse ucciso Ras a sangue freddo. L'arma del delitto venne mostrata alla giuria così come il fatto che il grilletto non era leggero dunque sarebbe risultato molto difficile sparare accidentalmente. La morte di Larry Ford risalente a 10 anni prima venne illustrata in un tribunale così come il comportamento di Barbara e il pagamento dell'assicurazione. Alla giuria venne anche mostrato che il 2 febbraio 1988 meno di 24 ore dopo la morte di Ras Barbara aveva scritto due assegni a se stessa sul conto di Ras falsificando la sua firma. Nel dicembre 1988 uno degli studenti di Ras che era a scuola durante gli allenamenti di basket trovò una cassetta nascosta negli spogliatoi la portò a casa con l'intento di ascoltarla ma se ne dimenticò quindi passarono diversi mesi prima che lo ricordasse e la mettesse in un lettore di cassette. Riconobbe immediatamente la voce del suo coach la registrazione durava più di 9 minuti e la giuria poté in questo modo ascoltare Ras raccontare gli ultimi giorni della sua vita. L'uomo in quella cassetta raccontava che mercoledì sera 27 gennaio 1988 Barbara gli aveva dato delle pillole che sarebbero dovute essere aspirina visto che aveva dei leggeri sintomi di influenza. Ebbene l'uomo si era svegliato presto alla mattina successiva sentendosi malissimo con un dolore intorno agli occhi. Giovedì sera 28 gennaio la donna lo aveva svegliato per somministrargli di nuovo una specie di medicinale qualcosa che Barbara definiva aspirina che lui però non aveva preso. Venerdì 29 gennaio 1988 Ras portò quelle pillole in una farmacia locale dove fu informato che si trattavano di sonniferi. Si chiese dunque perché Barbara l'avesse svegliato con lo scopo di imbottirlo di sonniferi stava già dormendo d'altronde. I suoi conti visa di dicembre e gennaio non arrivarono mai a casa Barbara sostenne che ci fosse un malinteso con la visa. Raccontò anche che il giorno del funerale della nonna di Barbara anni prima l'aveva trovata mentre faceva una scappatella romantica con un altro uomo. Nel nastro l'uomo delineò molto rapidamente lo schema di assegni tra conti bancari pagamenti dell'auto non effettuati e casi passati in cui la polizia aveva fatto visita a casa loro per notificare mandati a Barbara di fatture non pagate. La difesa di Barbara tentò di sostenere che la voce sul nastro non fosse di Ras nonostante l'identificazione positiva da parte dei suoi studenti ma soprattutto della sua famiglia e chiamò dei testimoni per attestare che Barbara semplicemente non avrebbe potuto uccidere intenzionalmente nessuno ma l'anno ormai era fatto. Il caso arrivò ai giurati alle 9.55 mercoledì mattina 17 maggio 1989. Solo 44 minuti dopo tornarono con un verdetto unanime che riteneva Barbara colpevole di omicidio di primo grado. Sentendo il loro verdetto la donna rimase senza fiato e scoppiò in lacrime. Il giorno successivo iniziò la fase di condanna del processo. La difesa combatté per salvare la vita di Barbara poiché era del tutto idonea alla pena di morte dato che fu dichiarata colpevole di aver ucciso Ras per soldi. L'accusa ritenne che meritava la pena di morte mentre i suoi avvocati sottolinearono che Barbara era un membro devoto della sua chiesa un'amica leale aveva dei bravi e giovani figli. Venerdì 19 maggio i giurati si ritirarono nuovamente in aula per deliberare. Cominciarono leggendo un passo della Bibbia prima di girare intorno al tavolo per esprimere i loro pensieri. Il primo voto fu misto sei per la morte sei per la vita. Alle 15.55 i giurati comunicarono al giudice di aver raggiunto un verdetto unanime in un'aula piena e tranquilla venne annunciato che la giuria raccomandava che Barbara fosse messa a morte per il suo crimine. Il giudice dunque la condannò di conseguenza fissando la sua esecuzione per il 28 luglio 1989. Barbara singhiozzando venne portata alla North Carolina Correctional Institute for Women a Rilly. Poiché tutte le condanne a morte venivano automaticamente appellate nella Carolina del Nord la data di luglio annunciata la sentenza di Barbara non fu altro che una formalità. Ci vollero infatti ben due anni prima che la Corte Suprema della Carolina del Nord ascoltasse il suo appello. Negli anni Barbara si è unita a un gruppo di studio biblico assistendo fedelmente alle funzioni e intraprendendo varie arti e mestieri diventando una prigioniera modello. Il 14 agosto 1991 la Corte Suprema della Carolina del Nord confermò la sua condanna ma le concesse una nuova udienza di condanna a causa delle istruzioni del giudice originale sui fattori attenuanti. In sostanza fu necessario dar via ad un secondo processo in cui tutte le prove avrebbero dovuto essere presentate. Iniziò nell'ultima settimana di agosto del 1993 a Pittsburgh a 15 miglia dalla più liberale Chapel Hill dove gli avvocati di Barbara ritenevano che sarebbe stato più facile trovare almeno un giurato in disaccordo con la pena di morte. Barbara venne anche sottoposta a una valutazione psicologica che sebbene non avesse rivelato gravi disturbi della personalità fece emergere che era socialmente isolata immatura eccessivamente introspettiva inclina a concentrarsi su aspetti negativi inoltre la vicinanza emotiva per lei è minacciosa e pericolosa soffriva di timori di rifiuto e abbandono con una spinta primaria a servire e presentarsi in un certo modo la madre di Barbara i suoi fratelli ed entrambi i suoi figli che a quel punto avevano 24 e 19 anni testimoniarono in suo favore giurando che la voce sul famigerato nastro non era quella di Russ Strager è interessante notare come suo padre fu l'unico membro della famiglia che non testimoniò seguì una parata dei suoi amici membri della chiesa tutti esaltavano le virtù di Barbara lunedì 30 agosto Barbara si mise davanti a un leggio e si rivolse alla giuria ammise di aver commesso degli errori nella sua vita ed espresse consapevolezza per la perdita di Russ e per il dolore che tutti inclusa la sua stessa famiglia avevano sofferto la giuria uscì per deliberare martedì mattina 31 agosto 1993 alle 10 e 13 alle 15 e 38 raggiunsero un verdetto questa volta la giuria raccomanda all'unanimità di condannare Barbara all'ergastolo questa volta fu Doris Strager la madre di Russ a scoppiare i lacrimi al verdetto mentre Barbara rivolse un grande sorriso alla sua famiglia il caposquadra disse ai giornalisti che sebbene l'accusa avesse un caso forte non giustificava la pena di morte un altro giurato riferì che il primo voto era stato 8 a favore 4 contrari uno dei giurati che aveva votato contro spiegò che non sosteneva la pena di morte e non l'avrebbe mai fatto nonostante avesse detto il contrario ai pubblici ministeri sotto giuramento d'altra parte una giurata donna arrivò persino a dire a un giornalista che credeva che Barbara avesse ucciso sia Russ che Larry e che probabilmente sarebbe stata rilasciata entro 20 anni e avrebbe ucciso un altro uomo la condanna a vita di Barbara iniziò il 31 agosto 1993 quello che sarebbe stato il 45esimo compleanno di Larry Ford il primo marito di Barbara avrebbe avuto diritto alla libertà condizionale nel 2005 ma le fu negata le fu poi nuovamente negata nel 2009 nel 2012 nel 2015 e nel 2018 durante la sua incarcerazione venne citata per tre infrazioni due per disobbedienza agli ordini nell'ottobre del 1989 e nell'aprile del 2017 e una per un tentato reato di classe C nell'ottobre del 1994 un reato di classe C nella Carolina del Nord potrebbe essere qualsiasi cosa da litigare al non presentarsi a un incarico di lavoro al sollecitare una tangente al commettere autolesionismo nel settembre del 2017 The News and Observer una pubblicazione di Rilly rivela che a Barbara erano stati concessi dei privilegi per lasciare la frigione per andare a pranzo fuori con uno sponsor approvato dalla prigione il programma chiamato Community Leave aveva lo scopo di reintegrare nella società qualsiasi detenuto idoneo alla libertà condizionale portandolo fuori dal carcere gli sponsor sono volontari che hanno completato la formazione la certificazione e un periodo di prova di un mese sebbene non potesse avere alcun contatto con i parenti Barbara poteva lasciare la prigione per un massimo di sei ore e tre volte a settimana la prima moglie di Russ Jolene era stata informata del congedo carcerario approvato da Barbara da un amico che aveva visto Barbara in un bel ristorante mentre si godeva il pranzo cosa che giustamente la fece infuriare lei Doris Strager Rick Bajnan e il pubblico ministero Eric Evanson inviarono senza sosta lettere per opporsi a questi trattamenti attualmente Barbara ha 71 anni rimane incarcerata presso il North Carolina Correctional Institute for Women detto questo vi ho finito di parlare in questo video spero che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti fatemi sapere se lo conoscevate se non lo conoscevate cosa ne pensate io come al solito sono qua e vi leggo tutti detto questo io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti